Cala il sipario su tutti gli hub vaccinali della Sicilia e di conseguenza quelli che fanno capo all'ASP Catania. Tra questi quello del palasporto Don Pino Pugliesi di Viale Industria di Caltagirone che dal 21 maggio dello scorso anno a tutt'oggi ha somministrato 80.734 dosi complessive. Numeri insomma confortanti, così come ribadito dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Pino Liberti. La popolazione di Caltagirone risulta tra le più vaccinate d'Italia e forse d'Europa, quelli della città e quindi questa app ha svolto la sua funzione e adesso ha cessato di svolgere questa funzione. Per cui oggi siamo qui per ringraziare il sindaco, la giunta che ci ha concesso i locali, per ringraziare gli operatori che in questi mesi si sono spesi per vaccinare la popolazione. Le vaccinazioni residue, quindi le seconde, le terze, anche le quarte dosi, speriamo ancora qualche prima dose, saranno somministrate nei locali dell'Asp che già pratica le vaccinazioni obbligatorie. I dati forniti dall'Asp includono poi le inoculazioni effettuate al punto vaccinale ospedaliero che sono oltre 17.000, a cui si aggiungono altre 9.000, che hanno invece riguardato l'ospice di via Circonvallazione Riponente. Quanto all'attuale andamento della pandemia, il commissario per emergenza Covid ha così concluso. L'andamento della pandemia, purtroppo, per quanto riguarda i contagi, non la malattia, ripeto, i contagi, è ancora sostenuta. Abbiamo in provincia di Catania circa 1.000 contagiati nuovi al giorno, in Sicilia circa 5.000, il dato italiano di ieri era 83.000. Il virus circola ancora, l'ultima variante, l'Axè, sta prendendo piano piano il sopravvento rispetto alle altre, e però la popolazione è immunizzata e abbiamo gli stadi pieni al 100%, la riapertura delle discoteche. Quindi abbiamo ricominciato a vivere, non dobbiamo però abbassare la guardia. L'ultimo aspetto da porto in evidenza riguarda infine di quel che ne sarà della struttura che per un anno si è posta al servizio del territorio e dell'utenza sanitaria. A chiarire questo determinato elemento è il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo. Voglio ringraziare il dottore Liberti e tutti i medici che a vario titolo hanno concorso a gestire questa importantissima struttura perché grazie a questo presidio è stato possibile bloccare la diffusione del Covid, effettuare migliaia e migliaia di vaccini. Da domani ci porremo il problema di cosa fare, ovvero restituire alla dimensione sportiva questo immobile. Abbiamo definito e strutturato un progetto di 620 mila euro per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico del palazzetto dello sport e scontiamo prima possibile di restituirlo alla sua funzione originaria che è quella di ospitare grandi e piccoli eventi sportivi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.